Sono molto contento di questa proposta di ANAS perché è un tema che ho seguito da tantissimo tempo anche successivamente i tanti incidenti che purtroppo hanno visto coinvolto questo tratto di strada e ora fortunatamente ANAS fa questa proposta che secondo me è una proposta risolutiva però nell'interesse della collettività e dell'interesse della sicurezza delle persone perché l'interesse primario è l'interesse di salvare le vite delle persone e ho preso una posizione abbastanza forte perché ritengo che questo progetto, questa idea debba essere seguita dobbiamo mettere da parte tutti e soprattutto anche noi politici in questo caso parlo del Consiglio di quartiere del San Bartolo che prende le posizioni a difesa di alcuni residenti io chiaramente non ho nulla nei confronti dei residenti, delle attività commerciali, ci mancherebbe quindi devono essere prese in considerazione tutte le soluzioni più utili, più semplici per mettere in sicurezza la strada, per rendere accessibile l'ingresso alle abitazioni delle persone però bisogna capire, e questa è la politica e ora che inizi a farlo che dobbiamo finire di salvaguardare sempre tutti il nostro orticello di voti o di elettorato quindi prima di tutto deve essere messa in considerazione la vita delle persone e questo progetto secondo me va in quella direzione poi cercare chiaramente di andare a salvaguardare gli interessi di ogni singolo cittadino si è parlato infatti nel recente incontro con i tecnici ANAS non solo dell'installazione di questo New Jersey ma anche di tre nuove rotatorie non sono assolutamente favorevole, è giusto che lo valuti anche il Consiglio di quartiere però dobbiamo prendere decisioni dell'interesse delle persone dell'interesse primario delle persone, dell'interesse alla vita e non dell'interesse di pochi singoli abbiamo capito e visto che il problema principale è il salto di corsia per le autovetture che sbandono e possono andare a collimare con altre autovetture provenienti dalla parte opposta quindi penso che la soluzione più importante, più definitiva e che più salvaguarda la vita delle persone sia quella di un New Jersey Quadrate che si chiama il nostro corso